Adesso torniamo a Pisa e parliamo di un concetto che dovrebbe svolgersi sul litorale che verrà recuperato dal Gianrino Scott. L'onda lunga degli spettacoli di quest'estate sul litorale Pisano arriva in città. Mercoledì prossimo 21 settembre al Gianrino Scott si terrà al concerto di Mario Biondi che avrebbe dovuto tenersi a Marina di Pisa lo scorso agosto e che invece fu annullato per il maltempo. Un impegno preso in occasione del momento ci ha portato a recuperarlo e a simboleggiare la continuità tra la città e il suo ritorale abbiamo deciso di portarlo proprio nel concetto della città all'interno del Giardino Scott e il concerto sarà anche in questa occasione gratuito proprio a dimostrare questa continuità, questa unitarietà territoriale. Quindi in qualche modo la vista mare della città che è appunto...